Il fischio dell'arbitro dà il via alla partita Pedro Pelé Alonso Robben prova ad andare via Ottimo movimento senza palla del compagno Alonso Close Tenta! La palla è ancora in gioco Esce Cerca spazio Beckham Cerca la rete! È un gran gol del Milan! Manifesta tutta la sua gioia Sì è partito con l'aeroplano Un gol calcolato al millimetro Che bello! Era impossibile da prendere Robben grande controllo di palla L'arbitro fischia fallo Robben prova ad andare via Azione fermata dal difensore Passaggio intercettato Cross in mezzo E con questa rete si sono fatti raggiungere il risultato di nuovo in bilico Perfetto il cross Sì ha dovuto solo metterci la testa Enche Tiro! È dentro il rete! Gol! Ed è evidente la sua gioia dopo questo gol Sì è un gol fondamentale che li porta in vantaggio E l'Arsenal è sotto Robben Marchionni prova ad andare in avanti Palla al piede Close Voronin Bel passaggio Ha spazio per il cross Raggiunge il compagno Sviluppano il gioco Nulla da fare Ripartono Passaggio troppo prevedibile Che mossa! Riesce a liberarsi Ottima azione Riesce a trovare lo spazio buono Passaggio a buon fine Allontana la palla dalla propria area Gol! Palla in rete Si rivolge polemicamente al pubblico Sì Ha fatto segno di tacere i suoi contestatori Gol direttamente da calcio di punizione Si hanno saputo sfruttare questa occasione sul calcio da fermo Il portiere qui non ha colpe Riesce a mantenere il possesso del pallone L'arbitro manda tutti a bere un tè caldo E con inizio del secondo tempo Milan che conduce Palla persa Pedro Pelé Odonco Enche La passa al compagno Ecco che tenta il tiro Grand ball del Milan E forse poteva evitare tutta questa scena dopo il gol Sì, visto il risultato rischia anche di diventare offensivo Due reti misse segno finora Si sta dimostrando una vera spina nel fianco della difesa avversaria Va Beckham Si appresta a battere il corner Robben Si muovono bene Passaggio a buon fine Si fa largo Prova il tiro Beckham Splendida giocata Robben Prova un barco Visto l'equilibrio sulla carta delle squadre in campo Mi sarei aspettato una partita diversa Si interventi Marchionni cerca l'azione personale Ha cercato di ridurre lo svantaggio Voronin Marchionni Close Alonso Attenzione solo Che gol! Splendida rete! Accorciano le distanze con questo gol Non servirà a cambiare il risultato Ma almeno una consolazione prima di andare negli spogliatoi E il Milan vince Splendida vittoria Hanno letteralmente dominato Decisamente Fabio E il fatto che il risultato non sia mai stato in pericolo Ha permesso loro di giocare in scioltezza e dare spettacolo Siamo così arrivati alla fine Arrivederci da Fabio Caressa e Beppe Bergomi